Anche presso la scuola elementare Giuseppe Micheli di Berceto Capoluogo si sta ormai concludendo il progetto di continuità scolastica denominato 06 anni, che ha quale finalità? quello di rendere familiare l'ambiente scolastico della primaria ai bambini della materna, che il prossimo anno vi si iscrivono. Il progetto si è articolato con diverse metodologie, un incontro rivolto ai genitori, agli educatori ed agli insegnanti, un corso di formazione per l'animazione alla lettura per gli educatori e gli insegnanti, spettacoli teatrali, uscite alla Biblioteca Comunale di Berceto, laboratori didattici di continuità a cui si riferiscono le nostre immagini. In particolare, attraverso la fiaba narrata, il libro e la lettura, i bambini sperimentano il piacere dell'ascolto e della lettura condivisa. Riconoscono, esprimono, comunicano e condividono emozioni e sentimenti. Infatti, attraverso le sfide e le paure che le fiabe descrivono, i bambini imparano le difficoltà di crescere e diventare grandi. La fiaba ha catturato l'attenzione dei piccoli di Berceto, li ha divertiti, ha suscitato la loro curiosità, ha sviluppato il loro intelletto, ha amplificato le loro emozioni ed ha placato le loro ansie, suggerendo al contempo soluzioni ai problemi che li turbano. C'è un momento magico nella vita del bambino, la scoperta del suo primo libro. Il libro è diverso dai giocattoli, il guardare, toccare, fiutare, sentire. Un rapporto positivo con il libro avvierà il bambino a cercare altri libri, a formarsi un imprinting forte e duraturo, che contribuirà ad arricchire le sue esperienze. A Berceto il progetto 06 anni è stato gestito dalle insegnanti Silvana Leoncini e Paola Andrei, congiuntamente alle figlie di Maria Ausiliatrice, che possiedono e gestiscono la scuola materna del capoluogo.